Musica Sono Francesco Passafaro, il direttore artistico del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro E insieme a Stefano Perricelli, al Teatro Incanto e a tutta la famiglia del Comunale Vi aspettiamo tutte le sere per fare rivivere il centro storico di Catanzaro Per farlo vivere, soprattutto attraverso spettacoli, intrattenimento e cultura Perché spesso si dice che a Catanzaro non ci sia nulla da fare Che non c'è niente, che è una città che ha bisogno di tante cose da fare, di tanti eventi Bene, noi diciamo un'altra cosa Diciamo che i catanzaresi, intesa come tutta la provincia di Catanzaro Devono venire al Comunale, possono venire al Comunale tutte le sere Perché uno spettacolo al giorno leva il divano di torno Ed è importante sapere che al Comunale c'è musica, c'è teatro, c'è cinema C'è un parco di eventi straordinario Anche grazie alle associazioni che si stanno rivolgendo a noi Per avere una casa, perché il Comunale è anche il teatro di casa tua Perciò anche grazie a Ama Calabria, grazie a Eva Cantusi Grazie a Piero Procopio, a Salvatore Corea A tutte le associazioni che fanno del Comunale la loro casa Perciò ti aspettiamo, tu ci devi essere E ti consigliamo davvero di non perderti questo spettacolo Che è il centro del centro storico Grazie a Piero Procopio